Tu intanto non ti affliggere fino al punto da perdere la pace interna. Prega con perseveranza, con fiducia e con mente calma e serena. Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissime. Ancora un pensiero di Padre Pio per questa giornata che ci accompagni in ogni momento della giornata che oggi il Signore ci dà la grazia di vivere. Padre Pio ci sorta a non lasciarci sconfiggere dall'afflizione, dallo scoraggiamento, dall'angoscia che molte volte è all'agguato nella nostra vita. Si dice che oggi una delle malattie più presenti nella realtà quotidiana è proprio la depressione. E quindi il rimedio è la fiducia in Dio. Non perdere la pace, dice Padre Pio interna. Prega con perseveranza, con fiducia, con mente calma e serena. Ecco il modo per sconfiggere questi sentimenti negativi che molte volte non dipendono nemmeno dalla nostra volontà. Alle volte noi siamo soggetti anche alle condizioni del tempo. È più facile che una giornata fredda, ugiosa, pioviginosa, di nebbia, ci porti a uno stato d'animo, diciamo così, triste o diciamo più depresso. E mentre una giornata di sole, splendente, ecco un cielo blu, ci porti alla gioia, ci porti più alla serenità, e noi siamo soggetti a questi influssi che non dipendono dalla nostra volontà. Ma non possiamo noi lasciarci trascinare così da sentimenti, ecco, così ambigui e così, ecco, superficiali, dobbiamo essere radicati in Dio. Allora, anche quando il cielo è buio, il cielo è cupo, quando sembra, ecco, che tutto, ecco, si chiude intorno a noi, che siamo afflitti, magari non sappiamo nemmeno definire il perché. Ecco, il Padre Pio ci esorta a perseverare nella preghiera. E la preghiera e la meditazione che ci aiuteranno a superare quel momento, ecco, di crisi, di stanchezza, di sconforto, che molte volte, anche nell'arco di una giornata, ci può cogliere. E abbiamo bisogno di una forza che non viene da noi per superarlo. E allora il segreto è quello di essere radicati in Cristo, quello di pregare con perseveranza, come dice Padre Pio, con mente calma e serena, nonostante l'infuriare della tempesta, ecco, l'incalzare dei venti, ecco, nonostante le onde sembrano o sembrino, ecco, voler affondare la nostra navicella, siamo chiamati in quel momento a gettare l'ancora della fiducia per non venire meno, per superare quel momento, ecco, per essere sicuri che la bonaccia tornerà, che la calma tornerà, che il vento, ecco, si fermerà, che il mare si placcherà e che non ritroveremo quella serenità. E la fiducia in Dio, la preghiera, la meditazione, che ci aiuteranno in quei momenti difficili a, ecco, superarli e a continuare, ecco, la nostra vita con serenità e con fiducia. Che Padre Pio, con la sua preghiera, ci sostenga e ci assista dal cielo. Pace e bene a tutti. a tutti.